Lui è Ettore, titolare di una piccola media azienda. Ettore è preoccupato perché tra costi, tasse ed investimenti ha necessità di un maggiore credito finanziario. La sua banca però vuole maggiori garanzie e richiede un business plan per concedergli un nuovo finanziamento. Ettore cerca una soluzione e scopre il protocollo Arpe Group, una consulenza in otto fasi, testata per cinque anni su più di 100 PMI che favorisce l'accesso al credito alle imprese in temporanea difficoltà. Grazie al protocollo Arpe Group Ettore viene affiancato da uno strategist, un senior analyst ed un junior analyst che collaborano con lui migliorando la marginalità, ottimizzando la gestione e i processi aziendali e redigendo al meglio la documentazione finanziaria della sua azienda. In questo modo Ettore potrà finalmente avere un valido supporto nelle trattative con il sistema bancario e poter così accedere a nuove linee di credito. Scopri anche tu il protocollo Arpe Group, il banchiere d'affari al servizio della piccola media impresa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.